Le massime autorità aretine, anche il primo rettore della Fraternità dei Laici, erano presenti per la consegna all'ambasciata francese di una onorificenza molto importante come alla Regione d'Onore al comandante della Gendarmeria Vaticana, Domenico Gianni. Come è andata? È stata una cerimonia particolarmente significativa. Domenico Gianni è il generale della Gendarmeria dello Stato del Vaticano, ma è soprattutto, credetemi, un aretino che ama la sua città, che testimonia la sua aretinità in ogni luogo dove lui esercita. Siamo stati onorati del suo invito e siamo andati, il sindaco, l'ingegner Ghinelli, il presidente della provincia, la dottoressa Silvia Chiassai e io come primo rettore eravamo in rappresentanza della città di Arezzo. Tre istituzioni vicini a una persona che rappresenta Arezzo nel mondo. Che cosa significa questa onorificenza, ottenere la Legione d'Onore e come è arrivata? Io credo che l'ambasciatrice ieri sera abbia colto molto bene facendo il curriculum vite del comandante Gianni perché l'ha rappresentato sia nella sua parte di volontariato umanitario, di pensiero, che ha sempre esercitato, sia nella sua attività anche a favore dello Stato italiano e poi per avere aiutato, sostenuto, servito ben tre papi. Credo che pochissime persone siano degne della più alta onorificenza della Repubblica Francese che è stata fondata proprio dallo stesso imperatore Napoleone Bonaparte.